se posso allora chi sei? sono Agatha Guelli la domanda che sorge spontanea ovviamente è come se ne esce da questo scenario che insomma magari avevamo intuito da non addetti ai lavori da non studiosi di questi terribili meccanismi naturalmente ma come se ne esce e come soprattutto se ne può uscire nel mondo della scuola dove in questo momento c'è la didattica a distanza ma dove c'è anche la didattica digitale che ormai è entrata diciamo nelle pratiche didattiche in maniera molto frequente come se ne esce? Naturalmente io avrei una risposta provocatoria se ne esce uscendo e cioè tornando forse ai libri e basta alle fonti di conoscenza diverse e basta ma non è possibile e so che non è possibile non è una strada percorribile e quindi mi resta l'atroce domanda come se ne esce? bene Marco prima di rispondere sentiamo se ci sono altre domande sì ci sono io vorrei anche io sono Giuseppe Ponsetti non Nadia Venturini non lo so questo è il doppio account Google appunto o del computer non so no io volevo chiedere come si può superare il fatto che appunto ma sì certo perché nel momento in cui tu sei costretto in qualche modo a fare didattica a distanza noi stiamo usando un modo però c'è stata una pressione incredibile da parte dei genitori per le video lezioni quindi finiamo poi per usare come si chiama zoom e dopodiché per evitare io per evitare problemi di privacy eccetera eccetera carico link a mie video lezioni registrate montate eccetera eccetera che però alla fine finisco sempre per mettere su youtube quindi alcuni per esempio se ho detto qui francese mi chiederò ecco tutto qui sembra come se ne esce bene grazie ci sono altre domande io volevo fare questa Rosanna questa diciamo riflessione da due anni sto gestendo dei laboratori di storia con gli insegnanti del del CID e chiaramente quando dobbiamo riflettere sulla possibilità di reperire dei documenti o delle testimonianze è chiaro che si apre la riflessione sulla consultazione di internet e su quei materiali che come appunto Marco ci ha spiegato benissimo sono tagliati in maniera tale da diciamo corrispondere alle esigenze della domanda e non tanto della domanda diretta quanto di tutto il gioco culturale che si fa appunto su questi percorsi d'altra parte però c'è almeno da parte mia una grossa esigenza cioè quella di non prescindere da questo approccio perché questo approccio talvolta dal punto di vista diciamo didattico si rivela ancora più interessante e più percorribile per avviare gli studenti stessi a una metodologia di ricerca cioè dal momento che le nostre scuole ormai sono sfornite di biblioteche aggiornate non ci sono più le biblioteche di classe internet è una miniera e su questa miniera il ragazzo si lancia così in maniera del tutto improvvida però nello stesso tempo l'insegnante lo deve avvertire che cosa va a pescare e qual è il criterio con cui va a pescare però non lo può frenare questo fatto da una parte dall'altra parte io mi metto nei panni di chi insegna informatica perché c'è un altro discorso poi è il discorso della progettazione di programmi e di percorsi di ricerca e anche questo io penso che comporti proprio un incontro e uno scotro su già quello che è stato organizzato ed è un problema molto grande perché quando Marco ci ha fatto il confronto tra come se io vado a consultare Paolo VI è più facile che io trovi pochissimo e che quel pochissimo sia stato programmato con delle stringhe che fanno parte di scelte culturali perché l'algoritmo si basa pur sempre su stringhe culturali che vengono dai concetti che vengono dall'essico naturale per certe informazioni e quindi questo è un grossissimo discorso d'altra parte qui chiudo attenzione noi avevamo questo stesso problema quando andavamo a consultare i vocabolari perché i vocabolari i lemmari sono proprio costruiti con dei tagli e con delle selezioni di saperi che sono legati a che cosa ha una certa concettualizzazione di una certa cultura tant'è che certi lemmi non funzionano più posso fare una domanda? o ritorno 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 grazie grazie no dicevo ho vissuto nelle ultime due settimane una discussione o una mancata discussione nel mio istituto scolastico che non so se rispecchi ciò che è avvenuto da noi cioè da voi cioè noi siamo tutti connessi a distanza facendo tesoro dell'apprendimento pregresso dell'utilizzo di piattaforme e di strumenti ma tutto questo è stato scavalcato consegnando il nostro istituto sulla base di un voto parziale del collegio docente anni fa direttamente a G Suite imponendoci l'utilizzo di G Suite allora ovviamente io richiedo un momento di riflessione sia nella mia scuola sia in merito a livello generale cioè per un verso sulla questione della privacy perché la privacy quando si faccia ricorso a questi strumenti evidentemente è un passaggio fondamentale e la mia la prima domanda è questa è possibile proporre che per alcune funzioni chiave come possono essere la messa a disposizione di una classe digitale si attivi il nostro stato cioè che da questa stagione di follia in cui siamo tutti stati gettati in un'esperienza rapida anche di di autoformazione per riuscire a mantenere il contatto con le classi si esca attraverso una dotazione di strumenti pubblici che si sottragano dal controllo dei blockbuster del web come come google che rappresentano proprio una sconfitta anche dal punto di vista d'approccio critico al web c'è stata c'è la raccolta firme di alcidi che trovo molto apprezzabile che richieda alla fine al fine di tutto questo appena possibile un momento di riflessione su sull'utilizzo di questi strumenti quindi la mia richiesta è per un verso che si come dire come se è possibile che se ne esca attraverso un'assunzione di responsabilità e di ruolo da parte pubblica perché si discuta di alcune funzioni chiave che ci possono essere offerte al di fuori del mercato e ovviamente pongo in primo piano il discorso che mi scorsa vorrei rispondere perché sennò poi c'è troppe le cose che vengono dette e non riesco senza altro Marco a te la parola certo questa sarebbe la soluzione la politica la politica facendo anche i conti con l'unità europea però perché non è una cosa con la comunità europea è una cosa un problema poco ci sono delle differenze forti sulla questione riservatrizza privacy gestione e proprietà dei dati tra il modello europeo e il modello americano con cui non vi voglia annoiare però certo questa sarebbe la soluzione e io sono convinto che la soluzione possa essere solo di carattere politico istituzionale ma ci vorrebbe un'altra politica non questa questa politica è in atto e non c'è bisogno della bestia di Salvini che sfrutta esattamente i meccanismi che io vi ho descritto evitato di parlare di questo ma nei materiali del cineforum trovato e non solo Salvini e non solo i 5 Stelle ma in linea generale le forze politiche attuali utilizzano questi strumenti queste modalità il micro targeting l'influenza l'influenza sulle opinioni e così via per cui certo in astratto la risposta è assolutamente sì in concreto i rapporti di forza di questo momento dobbiamo essere consapevoli non sono tali da immaginare questo aggiungo l'attuale ministro dell'istruzione si fa per dire in carica ha chiamato Google Microsoft Amazon Cemi ed altri layer del web che si sono i carati disponibili Cisco e così via partner partner non li ha chiamati fornitori di servizio li ha chiamati partner in questo momento sono rappresentati nell'immaginario collettivo in questo modo c'è come generosi enti che forniscono gratuitamente servizi poi manca tutto il resto A per costruire egemonia culturale e fidelizzazione B per costruire un gigantesco beta test a proposito di potenziali future piattaforme destinate all'istruzione un beta test è la mobilizzazione degli utenti per verificare l'efficienza di uno strumento C probabilmente questa è un po' una cattiveria per costruirsi un'immagine di benefattore tale da evitare loro di incorrere in web tax o cose di questo scusami sì 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 c'è qualcuno che mi parla sopra quindi la risposta può essere solo politica storicamente citavo prima lobbying le risposte sono state due la risposta più regole e la risposta più codice alternativo vi l'ho in qualche modo citato il software libero alternativo al software commerciale le comunità aperte alternative alle comunità chiuse ma sono state ipotesi assolutamente minoritarie e delitarie io non la vedo facile mi sento solo di dare questi suggerimenti a non pensiamo di uscirne a scuola a scuola dobbiamo sapere che cosa stiamo usando e quali sono le caratteristiche ma non pensiamo di uscirne a scuola ne dobbiamo uscire come cittadini non come insegnanti finché pensiamo che il nostro approccio a questi strumenti sia un approccio che parte dalla loro utilizzibilità didattica non andiamo da nessuna parte soprattutto in momenti come questi dove è evidente che la capacità di reggere un quantitativo importante di utenti di Google Suite è superiore a quella di Framasoft che è l'alternativa aperta e gratuita concettualmente identico eticamente socialmente ed economicamente profondamente diverso ma è un problema ripeto importante io credo che sia uno dei problemi oltre alla nostra salute sociale oltre che salute individuale che in questo momento è il problema di questo paese ecco un'occasione forse c'è e il fatto di discutere su controllo sì controllo no avendo maggiore consapevolezza del fatto che un controllo è già in atto che siamo tutti micro target allora partecipare alla futura discussione politica su questi aspetti con questo patrimonio in più e vi assicuro in Italia sono pochi e ricordatemi di dirvi perché ma fuori d'Italia in Europa e negli Stati Uniti sono molti coloro che hanno fatto ricerca nell'ambito nell'ambito del pensiero divergente sono davvero molti io nella bibliografia che vi ho citato vi consiglio non cinque libri per carità la Zubo in prescindibile ve ne consiglio quarantadue sono tanti sono tanti coloro che fuori dall'Italia hanno fatto ricerca importante riflessioni importanti in Italia questa roba qui non c'è io ho un'ipotesi sul perché non c'è perché in Italia è subentrata in questo campo e le riconosco l'assoluta buona fede sia culturale sia professionale una soluzione ingenua ed illusoria che si chiama media education cioè l'idea che sia possibile una sorta di rieducazione di minoranza di persone egemonizzate individualmente e collettivamente dai meccanismi che ho cercato di descrivervi oggi pomeriggio di rieducarli individualmente attraverso delle pillole etiche cercatevi per esempio sulla rete il progetto benesseridigitale.er è un progetto molto interessante ma che è Davide contro Golia perché non affronta la questione in termini politico-culturali affronta la questione in termini accademico-educativi e quindi è destinato a essere asfittico per definizione i tempi di intervento di Google sono just in time l'adattamento degli algoritmi è il tempo reale il tempo di sperimentazione di una ricerca seria sui comportamenti degli studenti è tempo lungo e nel frattempo Google ha già fatto un'altra forzatura ha già messo in campo altri strumenti Facebook ha modificato degli algoritmi come insegnanti certo qualcuno mi ha detto non ho letto tutto ma ho visto un pezzetto di chat come anche come insegnanti prima come cittadini e anche come insegnanti se la correzione era questa accetto però però evitiamo di usare concetti come didattica digitale didattica digitale è un concetto vuoto non vuol dire niente semmai è didattica con strumenti digitali e poi è didattica con strumenti digitali rivolta verso l'emancipazione e verso un uso consapevole della sfera pubblica degli strumenti di socializzazione della conoscenza o è didattica di costruzione digitale dativa contemporaneamente mezze e fine questo allora usciamo e lo dovremo fare anche sulla questione controllo sì controllo no fretta sì fretta no eccetera da una cosa che mi si è affacciata alla mente negli ultimi tempi ma in cui credo molto quello che io chiamo pensiero referendario pensiero referendario è quello che riduce tutte le questioni all'alternativa secca quella che c'è al referendum o sì o no allora tu sei contro google sei contro l'innovazione no a parte che contro l'innovazione senza aggettivi non determinata verso l'emancipazione e verso la sfera pubblica ma di nuovo adattiva e conferenziale io sono contro ma sono contro l'innovazione che ha quelle caratteristiche non contro l'innovazione se fosse progresso ma il progresso è benessere è benessere distribuito è equità non è soltanto qualcosa di nuovo di disruttivo come diceva Schumpeter che massacra ciò che c'era prima e costringe un cambiamento allora c'è bisogno di ricostruire Patrizia Vaiola mi dice ma una didattica per l'emancipazione non è made education è anche made education ma non può essere solo made education e non può partire dall'illusione che sia possibile affrontare i giganti della rete e la loro capacità egemonica in termini operativi in termini di efficienza in termini di risultati in termini di marketing in termini di condizionamento dei comportamenti attraverso delle petizioni di principio o la fornitura di qualche decalogo dell'efficienza non ha funzionato nemmeno con gli insegnanti gli insegnanti che sanno che Facebook è interdetto ai minori di 13 anni sono meno di quelli che pensano che saper usare bene Facebook a 11 anni sia una competenza lo dico provocatoriamente ma temo che sia vero temo che sia vero cioè recuperare conoscenza condivisa socializzata divergente radicalmente critica è il compito in questo momento sulla questione delle ricerche sulla rete guardate Google è reo confesso reo confesso sapete che esiste Google Scholar meglio Scholar Google cos'è? è un motore di ricerca di Google che fa ricerca sulle riviste scientifiche e sull'università e reo confesso la conoscenza scientifica resta conoscenza scientifica è quella roba lì e quindi Google offre anche quel servizio per fidelizzare anche coloro che vogliono fare non consumo culturale ma ricerca scientifica gli studenti non lo sanno in Italia che c'è Google Scholar e manco gli insegnanti allora certo ci vogliono alcune informazioni minime sulla questione che ha sollevato Nicoletta Gazzari l'accente questa è stata mia collega il percorso decisionale è fondamentale una delle domande che aveva organizzato Gino Tremoloso insieme a noi nel questionario è stata proprio questa qual è stato il percorso decisionale rispetto alla didattica a distanza quali sono stati in precedenza i percorsi decisionali rispetto alle scelte certo adesso c'era l'emergenza ma prima no com'è che molte scuole avevano già sottoscritto in precedenza i contratti non è in inglese non vuol dire nulla Google Scholar non è in inglese rispondo alla chat Google Scholar fa ricerca nella lingua che gli viene inserita e quindi fa ricerca sui materiali italiani che ha indicizzato Google non è in nessuna lingua è in tutte le lingue del mondo e ha qualche problema col cinese perché i cinesi e con i russi gli hanno messo un po' di muri di carattere tecnico perché vogliono muri di carattere politico-culturale ma Google è in tutte le lingue del mondo sono i materiali che non sono in tutte le lingue del mondo non ha mai fatto una ricerca su materiali rom ma immagino che ci sia molto poco qualche riferimento ai rom ci sarà Google non è in nessuna lingua Google è in tutte le lingue del mondo lì sta la sua forza Google indicizza i materiali in tutte le lingue del mondo Google ragionando sui brevetti ha costruito dei sistemi di traduzione di un'efficienza straordinaria quelli che usate quando andate a tradurre una frase da una lingua all'altra Patrizia Schirosi non lo fa perché sa le lingue però io non le so e uso questo allora quando fate una traduzione di quel tipo lì usate il fatto che Google si è costruito dei motori di intelligenza artificiale su quella roba straordinaria perché sapete cosa ha fatto? ha analizzato i brevetti i brevetti hanno la stessa struttura in tutte le lingue e quindi Google ha trovato un sacco di corrispondenze che ha immediatamente immagazzinato nel suo magazzino e di conseguenza è in grado di utilizzare però riassumo la soluzione certo che è politica ed è il recupero della sfera pubblica ma è una soluzione militante non è una soluzione immediata non è una scorciatoia è una strada lunga e faticosa perché significa rimpadronirsi della cittadinanza che questi strumenti ci hanno sottratto da tempo non solo in termini di privacy ma in termini di influenza sui comportamenti sulle scelte politiche sui partiti piattaforma e non voglio esagerare perché non voglio offendere nessuno ma è un percorso lungo le alternative si possono praticare per capire Framasoft si può praticare per capire ma in questo momento tecnicamente non regge ma è importante sapere che c'è quanto si può praticare per capire che non siamo profilati ma di nuovo non è paragonabile sul piano dell'efficienza ma forse quell'efficienza lì quell'efficienza lì che Google dimostra quella della mail d'accordo quella delle map d'accordo ma quell'efficienza lì forse non ci serve ci tengo a consegnarvi ancora un concetto che è il concetto di trasparenza radicale di scusate indifferenza radicale la trasparenza radicale c'è anche questa ahimè ed è un concetto libertariano cioè di coloro che pensano che la sfera pubblica non debba esistere ma che debba esistere soltanto una sfera privata ti faccio condividere Serena Pintus solo fammi finire di urlare allora il concetto di indifferenza radicale il concetto di indifferenza radicale è fondamentale per capire perché Google non sbatte fuori o soprattutto Facebook non sbatte fuori certe opinioni perché le opinioni per Google sono puramente sono puramente zone di mercato non hanno valore etico non hanno valore culturale il negazionismo per Google ha un valore di mercato spero non equivalente a quello dell'antifascismo ma se ci sono negazionisti Google deve essere in grado di restituire loro risultati di ricerca che siano soddisfacenti per una logica customer care Facebook fin quando non succedono particolari attriti o con lobby o con istituzioni o con gruppi di avvocati particolarmente potenti non cancella nulla se non perché ha manifestazioni che possono turbare i suoi cicli commerciali ma di per sé non c'è assolutamente nessun criterio etico cercatevi sulla rete c'è in versione commerciale un film che è uscito un anno fa e che è stato in sala tre giorni tre giorni si chiama Quello che i social non dicono è un film molto interessante sul lavoro di ripulitore di Facebook cioè coloro che in nome per conto di Facebook lavorano per cancellare e ripulire messaggi e informazioni costoro hanno il compito di seguire delle linee guida sono tendenzialmente forza lavoro tastificata che come accennavo da prima sta nelle zone meno ricche del mondo più povere del mondo e nelle Filippine per esempio ce ne sono tantissimi sono in subappalto non sono assolutamente in relazione diretta con Facebook e hanno questo compito per esempio nell'arco di una giornata decidere su una decina di migliaia di immagini se ricordo bene le quantità non sto esagerando se sono immagini conservare o cancellare conservare o cancellare conservare o cancellare conservare o cancellare cancellare o cancellare cancella 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 questo è l'audio di quel film cancella cancella conserva conserva cancella cancella questo è il lavoro è un lavoro che si chiama taskifica a cosa serve questo lavoro? a risolvere il problema e poi a fornire a un algoritmo che gli sostituirà i pattern i criteri per poi cancellare le prossime immagini queste persone stanno sostituendo e poi allenando e poi verificando il lavoro algoritmo allora bisogna che queste cose diventino patrimonio militante delle persone che si pongono ancora a problemi di scettodinanza non so rispondere di meglio però davvero rinunciare alla posizione che non deve usare internet vi ho detto che internet che è insieme di computer messi in relazione tra di loro da sistemi vari di connessione fisica internet è un'infrastruttura fisica e invece nell'immaginario collettivo è diventato un soggetto della cultura non è vero non è vero il libro di nuovo non deve essere contrapposto rispondo a quello che mi ricordo non deve essere contrapposto non c'è un problema di contrapposizione perché innanzitutto il libro è una tecnologia del testo non esattamente come una pagina web una pagina web è una tecnologia del testo nelle sue parti testuali per il momento il libro è una tecnologia del testo ha una tecnologia che ha certe caratteristiche che sono altre o sono in parte le stesse e in parte altre sapete come li chiamava Steve Jobs quelli che noi chiamiamo i libri intendendo i libri di carta lui li chiamava con una formula molto efficace li chiamava i libri rilegati perché sono testo rilegato testo ordinato rilegato che consente di essere sfogliato questa è la sua dimensione fondamentale è un testo che ha una sua globalità una sua struttura sono certo di averlo tutto se è diviso in due volumi due volumi e poi è sfogliabile questo è l'aspetto tecnologico ma quello che conta è il contenuto il rapporto con il testo il rapporto con il contenuto non con lo strumento è inutile contrapporre i libri e internet non ha senso molti libri che io sto leggendo in questo momento sono in formato digitale ma restano libri solo che sono su un supporto diverso il libro non profila troverai in concetti contrastivi il mio concetto di lettura resistente come si attua la lettura resistente? la lettura resistente si attua comprando libri dove non vediamo tracciati non quindi libri di carta perché se io li compro da Amazon i libri di carta Amazon mi traccia Amazon mi traccia e usa quelli che si chiamano i motori di predizione e di consiglio commerciale quindi Amazon mi traccia e mi dice hai letto questo potresti leggere anche questo anche questo anche questo e mi costruisce magari una rete di prezzi tale per cui io li compro da Amazon quindi non sono i libri di carta che ci salvano sono i libri di carta e i libri in genere che vengono comprati laddove noi non veniamo profilati e questo non è facile con le carte di credito perché le carte di credito in realtà che molti di noi utilizzano sono il primo sistema di tracciamento e di costruzione di micro targeting di tipo elettronico costruito finisco perché se no parlerei per ora ho finito vedo dei visi di persone vive direi che ah Giuseppe non ne usciamo non ne usciamo adesso dobbiamo sapere volevo dirti questo dobbiamo sapere come ci stiamo dentro attenzione dobbiamo capire la differenza così vi faccio un altro pippone tra contraddizione e contrapposizione la contrapposizione piace ai vincenti perché noi ci contrapponiamo per perdere la contraddizione cioè il comprendere che ci sono degli aspetti con diverse componenti all'interno di un comportamento la questione del lock-in che vi dicevo prima io non vorrei stare su facebook ostaggio di Zuckerberg ma ci sto perché alcune commodities se no le perdo quindi sapere a cosa stiamo dentro però capire che non è una competenza che non devo adattarmi che devo star dentro in modo divergente guardate che se fate una chiudo con questo così Giuseppe è contento l'efficacia è uscita con un documento devastante il cui quarto paragrafo dice una sciocchezza enorme cioè dice che nella scuola inclusiva si usano questi strumenti che in fondo sono solo strumenti non è vero che sono solo strumenti questa è la prima cosa che va compreso non sono mai state le tecnologie solo strumenti più che mai in questo momento quando sono sia tecnica sia ordine regolatorio possono essere considerate strumenti perché ci condizionano sul piano operativo ma ci condizionano sul piano dell'egemonia culturale quindi non possono essere pensate come strumenti veri allora almeno rifiutare in forma esplicita e argomentata questo passaggio è la prima tappa l'ho girato che sta un'altra Marco sono Nuccia Nuccia Ferraris ciao a tutti ha senso chiedere insegnanti piattaforme indipendenti ministeriali come prima Gino scriveva quella francese ci sembra ci sembra di aver capito che in Francia la scuola può utilizzare una piattaforma ministeriale ha senso chiedere questo è realistico poterlo fare devo rispondere davvero è una domanda vera va bene non rispondere no io rispondo cioè questo è quello che noi dovremmo fare noi dovremmo esigere non chiedere esigere cioè aprire un terreno di conflitto e di rivendicazione politico culturale è praticamente anche insinitare ma siamo già messi male perché i sindacati hanno già detto che sono strumenti che una piattaforma vale l'altra leggetevi questi documenti leggetevi sono documenti terribili ed è terribile che possono passare come se niente fosse perché c'è una sorta di resistenza alla critica legata all'idea che stiamo parlando di strumenti tecnici no stiamo parlando di strumenti che condizionano la cittadinanza la conoscenza la cultura la cognizione e come tali dobbiamo fare quindi certo che ha senso ma è una rivendicazione perché non lo faranno non lo faranno non lo faranno uno perché questo ministro tanto io sono notoriamente un sovversivo questo ministro è stato eletto grazie alla piattaforma russo questo ministro ha detto delle cose al convegno sulla media education sull'odio e sull'influenza dei comportamenti cercatevelo trovate in giro il convegno della media education del Miur con Azzolina che apri lavoro se il ministro fosse stato coerente con quello che ha detto in apertura avrebbe dovuto dimettersi seduta stante da ministro e da parlamentare perché quel seggio parlamentare è il frutto dell'utilizzo della profilazione algoritmi è il frutto dell'utilizzo della capacità che gli algoritmi hanno di indirizzare messaggi mirati agli elettori per poterli convincere della volontà di una piattaforma sottolineando quello che in quella piattaforma c'è che è coerente con le loro pibili e soprattutto sottolineando quello che c'è nei comportamenti dei presunti avversari che è in qualche modo in conflitto con le loro pibili quindi con questa politica concreta secondo me è molto difficile però certamente è l'unica strada possibile è l'unica strada possibile quella della rivendicazione consapevole di un intervento politico di di oggi ho detto quello che dice Barberis Barberis è un giurista democratico c'è ancora sto difetto e dice una cosa spaventosa dice quando si è al governo bisognerebbe essere interdetti da Facebook perché Facebook è uno strumento di manipolazione delle opinioni e quindi almeno quando sia al governo bisognerebbe non poterlo usare ma pensate un po' a fare una proposta di questo tipo in questo momento si parla immediatamente e su questo Google Facebook eccetera sono straordinariamente brave a far pensare che questa roba qui sia lesione della libertà di opinione lesione della libertà di opinione c'è stata un'insultanza quando Facebook ha chiuso un po' di roba di casaccia pound e di altri esseri del genere che io ho condiviso sul piano come dire ideale ma mi ha molto colpito perché i meccanismi per cui queste pagine sono state chiuse cioè il fatto che creavano troppo attrito e troppi conflitti che commercialmente penalizzavano Facebook non è mai stato individuato si è pensato che Zuckerberg fosse diventato antifascista no quella roba lì contraddiceva le linee guide e creava contraddizioni non superabili all'interno del flusso informativo che Facebook erogava cioè le proteste erano troppe e Facebook in quel momento aveva bisogno di recuperare credibilità Zuckerberg di fronte alle commissioni senatoriali in particolare ma anche dei deputati americane che l'hanno interrogato sulla questione di Cambridge Analytica e di fronte anche al governo inglese ha fatto delle figure terribili terribili di cui i giornali italiani non hanno però parlato se non appunto come curiosità come aspetto secondario ok quindi certo però ripeto è una rivendicazione sulla questione delle piattaforme di voi si ricorda il registro elettronico la prima piattaforma di lavoro a distanza introdotta nel nostro paese sa situarla nel tempo io mi ricordo Brisa vi faccio le domande risposta chiusa dai vasi 2007 2011 2015 nessuno ci parlava neanche Giulia direi direi 2011 a 11 11 perché interviene la revisione di spese il governo Monti vi ricordate? si comincia a parlare di queste cose allora il registro cartaceo è uno spreco di carte eccetera il registro elettronico fa risparmiare ok questa è la logica questo nasce così è già interessante che non ce lo ricordiamo poi questa roba qui vede la costituzione da parte del dottor Giovanni Biondi allora le risorse umane è inesatta l'espressione però insomma l'ufficio analogo alle risorse umane del New York fa un cavolo tecnico fa un tavolo tecnico dei fornitori di servizi avete presente che prima del registro elettronico le scuole erano fornite di ciò che viene chiamato la segreteria elettronica insomma tu non si vanno la grafica alunni quella roba c'era già le segreterie da tempo avevano i dati degli alunni in formato elettronico le iscrizioni e così via in formato elettronico si siedono al tavolo e la prima cosa che hanno detto i fornitori di servizi hanno detto mica farete una piattaforma pubblica bisogna conservare con questo rispondo a Magda il mercato perché al mercato non c'è alternativa vi ricordate che abbiamo cominciato con la Thatcher allora noi dobbiamo sapere che se proponiamo una piattaforma pubblica ci vogliono un sacco di investimenti e l'obiezione che può venire fatta la solita perché la spesa pubblica è spesa parassitaria è spesa dell'inefficiente eccetera e sepe che i soldi non ci sono non ci saranno non ci saranno per sempre e in ogni caso si archirebbe un poco di fila di coloro che pensano che i servizi debbano essere privatizzati perché il privato è bello non riesco a farvela vedere però in quella se vi ricordate in concetti contrastivi poi se volete c'è una voce che si chiama cibernetica militare cibernetica bellica anzi perché nasce con la guerra e all'interno c'è una fantastica slide della professoressa Mariana Mazzucato l'avrete sentita nominata che è un economista non certo sovversiva si si e dice questo e lo presenta come un'efficacia straordinaria dice la vulgata dice che la spesa pubblica è spesa sprecata in realtà la storia delle tecnologie digitali ci racconta che certo tutto ciò che è stato implementato genialmente è raccolto e fa il caso dell'iPhone dai grandi imprenditori visionari negli strumenti che hanno avuto grande diffusione sul mercato è frutto della ricerca pubblica in particolare di quella militare di quella militare in quella slide voi vedete una serie di tecnologie dal touch al GPS Marina Militare Americana al linguaggio HTML implementato dal CERN di Ginevra che sono frutto di ricerca finanziata dal pubblico perfini militari perfini universitari e poi in qualche modo captata e di cui si è appropriato il modello prenatistico di cui adesso noi siamo sostanzialmente come ho cercato di fare dell'inizio abbastanza prigionieri perché però i prigionieri possono essere trasformarsi in capo ma anche ogni tanto come dire manifestare qualche opinione diversa io vi proporrei quindi in chiusura se volete continuare io sto qua però forse non è il caso vi proporrei di comportarci da cattivi prigionieri bellissimo d'accordo d'accordissima già siamo prigionieri Luca Angelore doppiamente prigionieri e perfidi c'è ancora una domanda l'ultima l'ultima domanda di Luca poi chiudiamo sì ecco io ho soltanto una questione capisco la dialettica modello privato modello pubblico ma come dire lo Stato non ha sempre dato esempio nella storia di come dire farsi portavoce di un modello assolutamente pubblico di cittadinanza abbiamo avuto esempi anche di Stati totalitari quindi perché è più affidabile uno Stato che presenta rischi anche di questo tipo rispetto a questo modello di mercato rappresentato di Google perché alla fine lo Stato è un modello di organizzazione che conosciamo meglio per cui abbiamo trovato degli antidoti tali per cui siamo in grado in qualche modo di difendere lo spazio pubblico dalle eventuali ingerenze di questo tipo quali sono le ragioni di principio che vedete di muovere questo è stato io l'ho sostegno come sono abbastanza abituato a fare le cose di do una risposta sì Luca poi ne parliamo in un'ultimo momento per tradizione usiamo Stato ma io parlo di un altro soggetto parlo della Repubblica è un'altra cosa cioè la Repubblica è un'altra la risposta è sono d'accordo con te se poi pensiamo ai concetti polpiani eccetera ancora di tv ma questo non lo so non panno assolutamente certo la contrapposizione in questi termini anzi appartiene non al pensiero polarizzato io sono convinto però che è una restituzione chiudete i microfoni mi dicono perché entrano di tutto c'è qualcuno che grattuggia qualcosa credo dicevo continuano a pensare che la sfera pubblica debba prevalere e sono convinto che la sfera pubblica vada presidiata non debba ricevere una delega assoluta debba ricevere una delega relativa e continuamente messa in discussione la nostra costituzione repubblicana dipinge la politica come partecipazione quindi non lo stato inteso come ente unico depositario eccetera ma la sfera pubblica le istituzioni pubbliche la repubblica come luoghi in cui metter in moto poi la nostra repubblica delega allo stato una serie di compiti e questi compiti devono essere però come dire controllati attraverso un meccanismo partecipativo ho risposto molto affrettatamente ma credo che si tratti di uscire dalla polarizzazione anche in questo caso e che non è in ogni caso stato azienda ma è sfera pubblica sfera individuale privata richiamando il concetto fondamentale che citava Rodotà che adesso vi ripeto male sta uscendo di tutto dai gramsciani nella chat ho perso il filo Rodotà che diceva che la sfera pubblica è il completamento della personalità cioè che senza sfera pubblica che è la zona dell'interesse generale della negoziazione dell'eventuale contesa tra opinioni diverse dell'eventuale conflitto senza sfera pubblica siamo tutti in una condizione di minorità contrapponendosi al persino libertariano di parti per esempio che sostiene invece che la sfera pubblica e quindi lo stato devono intervenire il minimo possibile e se necessario proprio per compensare quelli che sono i fallimenti dello stato dell'impresa per esempio fornire l'istruzione bene grazie ma non credo che ci sia nessuno qui dentro che abbia questa idea allora ringraziamo Marco ringraziamo tutti voi per aver partecipato se vi arriverà dal CID l'attestato di partecipazione con il link dove poter scaricare la registrazione grazie a tutti di aver partecipato e un saluto affettuoso a tutti grazie Marco a presto grazie 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 di firmare l'appello firmate l'appello del CID ciao ciao indipendente senza altro ciao 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 arrivederci ciao ciao arrivederci arrivederci ciao a tutti ciao 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 ciao